Per il ciclo c'era una volta l'Western Io sono un sacerdote La sua missione Non ho mai visto un prete con la pistola È riportare la pace Darò protezione a chiunque venga in questa chiesa In una comunità divisa I pecorai sono feccia e non li vogliamo qui Le sue armi, il Vangelo È volere di Dio che si viva uniti e in pace E la colta Glenn Ford è Il pistolero di Dio Martedì alle 21 Con Iris Amen